bella vecchia draba di ventunale in questo caso dopo due vittorie con secondo me incredibile mancano due partite e siamo qui contro la premier come la nostra non so chi è il terzino destro che americano yoyo tottenham che c'è sta? ah ne cosa vuoi non è yetlin è bravo bravo ragazzi veniamo due vittorie adesso se mancano due vittorie se vinciamo queste due siamo saliti in pratica giusto? e ci siamo salvati questa è la cosa più importante ahhh due volte questo ha fatto proprio male dai con due vittorie lo sai che lo stavo per dire? si oh ma non cazzo ci provo no 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 oh è di maria ok però ti l'ho da destra ma che sta fa? se sta ancazzata hai visto? eh si se sta ancazzata stava da solo ehhh nooo sta fai a mano di destra per quanto è veloce il gioco ma bello bella be 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 porco 2 ma serio? c'è oh se tiri dritto sono maglia se tiri con coltiro di precisione sono maglia ma come devi tirare segnato? ma vaffanculo ma che è? ho stop de petto da la vita degli dritti ancora ancora su periscope oh mio dio ma vaffanculo eh facciamo un attimo una bella ghostfrax ero per cazzo c'è stato sempre tutto il tempo su periscope so più notificate che quelle delle altre sull'istate eh vabbè o a sto punto non vi lascio pure il mio vaffanculo dalla non è fuorigioco no non è fuorigioco no ma che cazzo è disata che prima abbiamo non c'è no 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 periscope cazzo gioca in descrizione c'è il mio periscope mi sono c'è perché non ha l'iphone android se non hai l'iphone non hai l'iphone eccolo eccolo oh si 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 dai dobbiamo dobbiamo salire di una divisione quindi per fare pensi shot su oltre a zero tu muori vabbè dai questo che la sua data su oltre a zero si però eh tu muo no tu muoci 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 ma che cazzo sta fa ma che cazzo sta fa ma che cazzo ne so uno gli ha preso una sincube è bello è che è un giocatore con più passaggio di tutti si oh vabbè io pensavo che sei la maniata vabbè vabbè acquero è tornato acquero è tornato acquero ragazzi ancora non lo puoi fare se no se no che succede non muoio bravo però tuttalla porca troia tranquillo muo stava fuori gioco non devi dare tempo di creare superiorità ma quali superiorità stavamo in superiorità oh ha rotto il cazzo a agganciarmi lune non mi guardano non mi fa gioca ma mi fai gioca dai la lune fuori ma che fuori ma poi eh stava appoggiata giuro appoggiata come si va no ti piaceva bene mo si però non è piaciuta quello a te e lo sai che è io non capisco perchè puoi segnarti si tu non la dai lui sai che te la togli te la prendi te la prendi quella che fa segna a te si oltre la se ne va se ne va se ne va se ne va per meglio sti cazzi o se ne va non perdiamo tempo non perdiamo una partita rimasta ma no me rega stiamo per fare l'impresa forse stiamo per fare l'impresa allora la cosa di quello scenario in cui io spacco la mei vinciamo e ci da scontri o sennò tipo 3 a 3 al novantesimo occasione da collo io pensi foto e me lo gago bellissimo così voglia di vita c'è un cazzo probabilmente olè la cazzetta if e questo è il brano e cc quando c'è la cazzetta if il brano e ccc ma che cazzo fa noi c'è voluti i problemi i brano e ccc max per lavorare ma comunque quando c'è la cazzetta if si perde sempre quindi purtroppo dovremo rimanere in quinta divisione perchè te la da eccolo subito la cazzetta if subito dove vai io capito già questo come gioco colpo bar 1 a 0 io l'avevo arrivato qua e perché vedevamo proprio era scritto ero c'è soltanto per aver camminato verso di lui eh c'è ma non è vada ma gli è passato un mezzo ma ma attaccia ma attirata bene attirata lì dovevi fa prima un passetto capito come sempre non abbiamo parlato non abbiamo parlato vabbè vabbè c'è non ma mamma mia cazione vado giocatore c'è che cazzo tu vuoi fare mamma mia per favore farlo qui dai abbiamo tempo mamma mia è un sogno c'è dopo 2 a 0 è stata impossibile sotto sotto no eh non ce la fa eh rigore è rigore rigolissimo si porco cane si non so se gli da rosso perchè è da dietro giallo oppure da dove si retira la sinistra la testa è legata si 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 3 a 2 ripartato tutto non ci posso credere non ci posso credere fermo calmo non dobbiamo prendere il gol eh cazzo via muta la via quadrato quello ho fatto ma adriata no 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 cazzo ho fatto a far cambio di gioco cioè da là è partito tutto incredibile oh ma non si spinge il cerchio per mandarla via e quello ho fatto mannaggia ha deviato la palla buono si ma che rimonta ho fatto c'è oltre la rimonta dei punti la rimonta di questa partita è incredibile raga io ho perso 10 anni di vita mamma mia uuu bello 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 si chiusa in bellezza stagione due episodi belli belli ieri oggi eh e domani domani quarta divisione bam bam eccolo eccolo 17 punti passano in quarta tutte finte quattro vittori di seguito mamma mia che impresa dai quasi come il mio solico flash ciao siete venuti domani con la quarta visione bella ciao